Come ci arriva? Ma io innanzitutto non credo che quando Kubrick prende in mano Doppio Sogno di Schnitzler sapesse che si stava appropinguando al suo ultimo film, credo proprio di no, anzi Doppio Sogno già lo comincia ad avere sott'occhio negli anni 80, niente poco di meno, come libro molto interessante. Premetto per tutti quanti lo sappiamo che da gran parte dei film di Kubrick, cioè tutti gli undici più importanti, sono tratti da materiale letterario, certo 2001 no, perché La Sentinella è veramente molto lontano dal romanzo 2001 che nasce dopo il film, dopo che Clark lavora la sceneggiatura. Però diciamo che Kubrick ha sempre basato il suo lavoro, diciamolo così, sul materiale preesistente, quindi ovvio che stava lì sul Doppio Sogno a rimuginare già da tempo. Il film precedente di Stanley Kubrick che è del 1987, cioè di dodici anni prima, non è stato proprio l'anno prima, insomma. Penso che, ripeto, quando Kubrick riesce a ideare il suo progetto non pensava stesse lavorando sull'ultimo film e non credo fosse assolutamente stanco. Secondo me la penso in modo diametralmente opposto al tuo, cioè per me l'opera è coerentissima con tutta la poetica Kubrickiana. Io ho avuto la fortuna di vederlo in sala nel settembre del 99, sono stato l'unico ad applaudire in sala quando l'abbiamo visto, l'ho difeso dopo la prima volta che l'ho visto, l'ho rivisto altre 50 volte, ogni volta ci scopro mille meraviglie. Il film è l'ennesima riflessione, l'ennesima perché già in Shining c'è, l'ennesima riflessione sulla famiglia da parte di Stanley Kubrick e sulle creazioni dell'uomo, l'esercito, la famiglia, la fantascienza, la macchina, sono tutte le creazioni, la società, il duello, sono tutte le creazioni con cui l'uomo cerca di arginare i suoi istinti, i suoi impulsi primordiali e sono tutte quante regolamentate da una morale che mostra sempre le contraddizioni che l'uomo ci inietta dentro, le ipocrisie, le menzogne, la menzogna e la falsità, il desiderio, sono tutte cose finite che quando vengono messe dentro qualcosa che sembra perfetto, come l'idea di famiglia a Natale, cosa c'è secondo la morale occidentale di più perfetto di una famiglia durante la settimana di Natale? A New York. A New York, con le luci, con la figlia bionda, con la figlia di Natale bellissimo, con tua moglie appassionata di arte che ha rinunciato a fare tutto per dedicarsi alla famiglia, con lui che fa il mezzo, è un ideale di perfezione che praticamente ogni uomo delineerebbe se dovesse parlare della famiglia, dell'ideale di famiglia. Eppure Kubrick ancora una volta, come l'ha sempre fatto, con l'esercito, con la fantascienza, con la macchina, ci mette dentro la disfunzione, ci mette dentro l'ossessione, ci mette dentro l'alterazione di questo ideale che dipende dall'uomo stesso, dipende dalle sue ossessioni, ripeto. Cioè la stessa ossessione che spinge Barry Lyndon a picchiare il figliastro che umilia il figlio, accedere a ogni richiesta del figlioletto, anche quelle più assurde, la stessa ossessione che lo spinge verso il titolo nobiliare, la stessa del nostro Tom Cruise, che non è geloso del tradimento della moglie, ma del desiderio del tradimento della moglie. Quindi stiamo veramente parlando del labirinto Kubrickiano all'ennesima potenza, dove si è gelosi di un desiderio e non di un gesto e non di un'azione. Tutta questa meraviglia di roba è ancora una volta, come in Arancia Meccanica, come in Al 9000, legata all'occhio. Lo sguardo è la prima cosa fondamentale nel film di Kubrick. Cioè Al 9000 è puro occhio. Alex Delarge si trucca un occhio. Gli zoom di Barry Lyndon sono l'occhio che guarda meglio, l'occhio che è la fonte di ogni desiderio e la fonte di ogni ossessione da parte dell'essere umano. E quindi, qual è la prima battuta di Alex Wachat? Hai visto il mio portafoglio? Quindi, se stiamo parlando di occhio, credo che sia di sguardo, di vista, di quello che vediamo e che vorremmo vedere a tutti i costi, anche a costo di sfidare quello che è proibito. è un'altra grande caratteristica della poetica kubrickiana. E in modo assolutamente malizioso, Kubrick ci fa vedere che noi spettatori siamo come il Tom Cruise, perché se vediamo Nicole Kidman nuda nel primo fotogramma e la vediamo fare la pipì, praticamente, nella scena contigua... Fa riferimento a Hitchcock, in cycle, no? Sì, per carità, per carità. Kubrick fa riferimento sempre a tanti film, non solamente al maestro. Fa sempre riferimento a tanti film. Però, accostando quelle due immagini, ci fa vedere come le nostre percezioni possono essere antitetiche, come saranno nel corso del film, perché tutto il film si basa su queste antitesi costanti, no? E su quello che vediamo abbiamo creduto di vedere e ci ha in qualche modo ingannato. La prostituta che Tom Cruise deve risvegliare a casa di Sidney Pollack è la stessa che gli salva la vita? Abbiamo visto bene il suo seno, abbiamo visto bene le sue cosce, abbiamo visto bene il suo ventre. Cioè, siamo stati attenti ai dettagli, perché il volto non l'abbiamo visto. Cioè, non lo vediamo quando indossa una maschera. No, ma infatti, dopo sarà un tema parlare dell'iper-sessualizzazione del tema. E quindi, in questo caso, il sesso, invece che... Ma quello c'è sempre, per carità, però in altri magari sta leggermente defilato, è leggermente defilato il problema, però qui invece è centrale, diventa l'unico modo di reggere in piedi la famiglia senza le sovrastrutture morali, che invece la rovinano, perché la pretendono perfetta. E quindi c'è la regressa, ancora una volta, come in Arancia Meccanica, dove Alex Delarce viene imboccato dal ministro, come in Asso e Chat, dove i soldati si salvano e cantano Topolino, Topolino, come al 9.000 che per morire canta il girotondo. Ancora una volta, il progresso non esiste per Kubrick, perché salvare la famiglia, quindi andare avanti nel rapporto, significa tornare animali e ci scopare, che è l'ultima parola del film. Quindi, ancora una volta, il progresso non esiste. Ancora una volta, è regresso quello che ci porta alla fine... Kubrick ha sempre sottratto, in modo molto sadico, in modo molto scaltro, in modo molto calcolato, la catarsi alla sua forma di protagonismo. Dimenticavo Barry Lyndon, anche assistito dalla madre, perché è privato di una gamba e non riesce a fare più niente da solo. Quindi, anche nel suo caso, il sogno di ascesa sociale diventa regresso, perché diventa bambino con la madre che lo deve imboccare, e lui che ha perso una gamba. Anche lì, ovviamente, avendo perso la gamba, ha perso quello che nel canone classico è l'attributo principale della mascolinità, perché ricordiamo che lui ha sedotto Marisa Berenson con il suo sex appeal, e Marisa Berenson lo ha desiderato sessualmente, adesso lui è senza la gamba. Quindi, io lo vedo assolutamente congruo e coerente con la poetica, anche dal punto di stare in montaggio tra le stupidaggine, per non dire stronzale, che si sono detti, il montaggio non era finito, era finito. Kubrick, il montaggio l'aveva praticamente, se non ultimato dal punto di vista della moviola, ma ne abbiamo parlato così tanto con i suoi collaboratori e con i suoi produttori, che o lo finiva lui, o lo finiva un altro. Funziona bene. Praticamente, io non vedo nessuna differenza. Il film è un film strepitoso, strepitoso, anche se l'avesse fatto Steven Spielberg, non fa niente. Non hanno preso ciccio pasticcio fuori da Buckingham Palace per fare il montaggio, hanno chiamato Steven Spielberg, che non è l'ultimo degli scemi, e quindi, che ti devo dire, ti devo parlare degli occhiali di Nicole Kidman, e gli occhiali di Nicole Kidman, visto come ci guarda? No, 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 dopo, dopo. Quindi è un film Kubrickiano, ci sta la vista, ci sta la famiglia, ci stanno le ossessioni, ci sta la sessualità, ci sta la mancata catarsi, ci sta il labirinto, e sta le Kubrick, punto, basta. Cioè, aggrapparsi a presunte mancanze di questa opera, per niente stanca, per niente invecchiata, io l'ho rivisto infatti, voglio parlare dopo del fatto che è uno dei più bei film natalizi, molto più bello di Una poltura per due. Cioè, se vedete l'inunzione di Natale, è molto meglio sfasciato. No, io questo me lo rivede il Natale, quando tutti sono a dormire, naturalmente. Ma assolutamente, non lo so se stanno dormendo. Ma io, anche le famose scene di sesso in Kubrick non vogliono assolutamente trasmettere eccitazioni. No, ma sono senza valore. Eh, appunto. Appositamente senza valore. L'uomo è meccanizzato anche in quel gesto, perché pretende anche in quel caso, come nel caso dei duelli, in Barry Lyndon, pretende di rendere perfetto, con le donne perfette, la casa perfetta, la parola d'ordine, la ritualità, qualcosa di istintivo animalesco come il sesso. E se tu pretendi di essere, di trasformarlo in qualcosa di perfetto, automaticamente quella cosa non funziona più. Non ti può eccitare. Non funziona più quella cosa. Perché l'uomo l'ha resa un rito. Cioè, gli ha dato delle regole rigide. E non va bene più. Non va bene più. Infatti, chi tenta di infrangere quella regola, cioè l'intruso, come è Barry Lyndon, come è Redmond Barry, l'intruso nella nobiltà. Quindi davvero, sembra davvero l'ennesimo film cubrichiano. C'è poco da fare. Come è un intruso, gioca nell'esercito, perché vuole la pace, vuole la guerra contemporaneamente. Cioè, i film di Kubrick sono sempre pieni di questi, come è un intruso, Kirk Douglas nell'esercito perché vorrebbe far trionfare la giustizia invece con l'opportunismo. Cioè, le tematiche cubrichiane ci sono sempre. Ci sono alla stragrande. E che siano cubrichiane è evidente perché sono le grandi alterazioni che lui introduce rispetto al romanzo di partenza. E quindi ci rendiamo conto che sono proprio farina del suo sacco. anzi, sono le sue ossessioni. Non sono semplicemente farina del suo sacco. Sono le sue ossessioni. E lui le mette a prescindere dalla trama che tratta. A dimostrazione che la trama è una cosa molto inutile.